La verità si acquisisce gradualmente. Lo Spirito Santo è paziente ed è molto rispettoso della nostra capacità di comprendere e della nostra evoluzione personale. È Lui che ci prepara giorno dopo giorno a ricevere la luce della verità se noi gli apriamo il cuore con umiltà. Tiene conto della nostra mentalità, della nostra visione del mondo, del contesto in cui viviamo ed operiamo, delle difficoltà che abbiamo nel cercare di vincere le tentazioni, delle relazioni sociali che manteniamo, eccetera. Lo Spirito Santo è molto rispettoso anche del libero arbitrio che ci è stato donato. Pertanto comunica con noi attraverso le vie più inimmaginabili, anche attraverso gli eventi che a prima vista appaiono più insignificanti. Tocca a noi cercare di interpretare con il discernimento interiore ciò che ci vuole dire per poter operare affinché riusciamo a completare il quadro della verità e raggiungere il Regno dei Cieli.